buongiorno buona domenica a tutti voi benvenuti all'auditorium di scandici quest'oggi è venuto a trovarci il professor giovanni gozzini eccoci uno dei miei obiettivi oggi di farvelo leggere o rileggere questo libro è un libro sulla vita vera e tostoici mette dentro tutto se stesso ecco questo libro ti spinge a dire aspetta ferma un attimo dove siamo dove sto andando era quello che volevo fare o era un'altra cosa